La Guardia di Finanza di Civitanova Marche ha scoperto una maxifrode fiscale da 47 milioni di euro, indagando su un gruppo di imprese della zona, dedita al commercio all'ingrosso e al dettaglio di calzature. L'inchiesta, iniziata già due anni fa, ha portato a 14 denunce e riguarda società legate da stretti rapporti e di fatto amministrate dalle stesse persone che avrebbero utilizzato fatture e relative operazioni inesistenti per evadere imposte. Si sarebbero avvalse di una serie di prestanome e della collaborazione di imprenditori e imprese compiacenti. Quattro le aziende cartiere, cioè fornitrici delle fatture false, di cui una con sé dell'estero e tre in Italia. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Macerata, Giovanni Giorgio, hanno permesso di scoprire una frode da 47 milioni di euro su imposte sui redditi, con IVA e Vasa pari a oltre 15 milioni di euro. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell'equivalente dei beni e delle disponibilità finanziarie.